Randy! Ehi! Ehi, che ci fai qui? Che cazzo stai facendo? Quello che ho sempre fatto, il mio lavoro. Sì, ma... il tuo cuore. Il mio cuore. Il mio cuore batte ancora. Sì, ma i dottori hanno... Senti, so quello che faccio e questo è l'unico posto dove non mi faccio del male. Al mondo non gliene frega un cazzo di me. Ma io sono qui. Io sono qui. Non significa niente per te. Ehi... Li senti? Per questo il mio mondo. Devo andare. No, no! Randy! Randy! No! Randy! Steve! 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 È il famoso! T' 52! Come on! Sì! Sì! È il momento! Che c'è? 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 Voglio solo dire a tutti voi che stasera sono particolarmente felice di essere qui molte persone mi hanno detto che non avrei più potuto combattere ma non so fare altro se vivi sempre al massimo e spingi al massimo e bruci la candela dai due lati ne paghi il prezzo prima o poi sapete nella vita si può perdere tutto ciò che si ama e tutti quelli che ci amano infatti non ci sento più come una volta dimentico le cose e non sono bello come un tempo però a maledizione sono ancora qui e sono dei re è vero il tempo è passato il tempo è passato e hanno cominciato a dire è finito non ha futuro è un perdente non ce la fa più ma sapete che vi dico gli unici che potranno dirmi quando non sarò più all'altezza siete tutti voi è per tutti voi è per tutti voi che vale la pena di continuare a combattere perché siete la mia famiglia vi amo tutti grazie e è finito bella parola grazie 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 grazie